E' una delle aree all'interno del porto di Genova dalle grandi potenzialità ma sulla quale incombono ancora tante incognite da risolvere. E' quella delle aree Exilva di Cornigliano. Il loro utilizzo è di fatto vincolato ad un accordo di programma siglato nei primi anni del 2000 dopo la chiusura dell'Alto Forno e la riconversione del polo produttivo genovese. Con la crisi dell'azienda metallurgica a livello nazionale e il ridimensionamento nel corso degli anni delle lavorazioni in Liguria, l'interrogativo che da più parti è stato sollevato è legato proprio al futuro utilizzo di questi spazi che sorgono all'interno dell'area portuale genovese. La tensione è alta anche da parte della Regione Liguria che non esclude una ridefinizione dell'accordo di programma siglato a suo tempo. Sicuramente è importante che le istituzioni facciano quadrato e spingano e collaborino con il Governo per traguardare questa importante azione che è stata posta in essere proprio nella garanzia intanto della produzione di acciaio, di acciaio di qualità. È evidente che i dati ci consegnano una situazione che pone in evidenza come oggettivamente quelle che nel 2000 con forza di legge erano state individuate come aree asservite a questo tipo di attività probabilmente per lo sviluppo e per le caratteristiche del nuovo sistema produttivo non saranno più tutte necessarie e sicuramente rappresentano un contesto strategico proprio di sistema di tutto il comparto portuale, industriale e logistico. Quindi credo che gli interventi che sono stati posti già in essere da parte dell'amministrazione comunale ma da parte anche nostra di Regione vadano nella direzione di una volta individuato quello che è il comparto e quelle che sono le oggettive esigenze che possano garantire la ripresa dell'attività di ILVA e della produzione dell'acciaio nella nostra città, si possa però fare un ragionamento e traguardare una modifica di quell'accordo di programma che consenta in qualche modo di mettere a sistema una quota parte di quelle aree per altri contesti produttivi industriali.